Allora, questa sera, come avete già detto, si parlerà del grande tappeto di caccia. Si tratta di un'opera molto importante, un'opera molto importante per le collezioni del museo, ma è anche un'opera importante nella storia della produzione dei tappeti, quindi è un'opera importante anche nel mondo. Come vedremo durante la mia presentazione, osserveremo il tappeto, guarderemo il tappeto nei suoi particolari, ma poi dedicheremo una parte di questa conversazione a raccontare la storia di questo manufatto, la sua provenienza e soprattutto vedrete come, nonostante esso faccia parte delle collezioni del Museo Pol di Pezzoli, da quasi cento anni, non si sa ancora tutto sulla sua storia e una serie di indizi, di tasselli, anche estremamente importanti, continuano ad emergere con il passare degli anni e quindi anche con il procedere degli studi da parte degli specialisti, alcuni dei quali sono presenti questa sera e ringrazio. Il tappeto di caccia è al Pol di Pezzoli, come vi dicevo, da quasi cento anni, dal 1923, ed è attualmente esposto nel Salone dell'Affresco, che vedete nella parte superiore, sopra il soffitto, che si trova al piano terreno del museo, proprio dietro la biglietteria. Il tappeto è esposto in una grande vetrina, adeguata alla sua conservazione, e parliamo però un po' subito delle sue caratteristiche. Il tappeto è stato prodotto nella prima metà del XVI secolo in Persia e si crede da una manifattura di tablets, che è situata nell'area nord-occidentale della Persia. Il tappeto misura 6,80 m per 3,50 m, quindi è un tappeto di grande dimensione, come ha scritto Chiara Gatti sulla Repubblica oggi, ha le dimensioni di un appartamento, di un piccolo appartamento. Il tappeto è, i materiali che costituiscono questo tappeto sono cotone, lana, c'è qualcuno che ha l'audio acceso. Avete tutti silenziato? Sì, scusate. Il tappeto è, dicevo, è costituito da lana, cotone e da seta ed è caratterizzato da questa composizione simmetrica e la composizione è a medaglione centrale con quarti di medaglione agli angoli. Questo è il nostro medaglione centrale, a fondo rosso, è un medaglione che presenta 16 lobby e presenta al centro un cartiglio di cui parleremo tra poco. E poi agli angoli abbiamo i quattro quarti di medaglione che presentano la medesima decorazione. Era una cosa tipica di questi tappeti. Ma veniamo ora al nostro medaglione centrale. Su fondo rosso abbiamo una decorazione che è costituita da questo reticolato di rami con foglie e fiori. In ogni punto di intreccio di questa rete, di questi rami, ci sono dei fiori. I fiori sono di vario tipo e poi ci sono uccelli, alcuni e poi queste nuvole, questi fasci di nuvole che vediamo in questa diapositiva in maniera più avvicinata, che derivano dalla cultura cinese. La Persia, che si trova a metà tra noi e l'estremo oriente, ha risentito nella sua cultura molto di più delle culture estremo orientali che non della cultura occidentale. E quindi queste, come anche le nuvole, la fenice, che è probabilmente questo uccello, e anche i fiori, le peonie, i fiori di lotto, le rose, sono proprio riprese dalla cultura cinese. Vedete un particolare di questo uccello? Il tappeto, lo vedrete in questi ingrandimenti, presenta diverse parti in cui si è perso il pelo, in cui è un po' rarefatto, non è sicuramente, nel momento in cui è stato prodotto, era molto più vivace, molto più ricco, ma più saturo, diciamo, non si vedeva l'ordito in trasparenza come avviene in questo momento. Però vi faccio notare una cosa, che i colori hanno mantenuto la loro brillantezza, i blu, i gialli, il rosso e anche il verde. Quindi tutti questi colori sono assolutamente meravigliosi. Questo è uno dei lobby del nostro medaglione. È una paperina. Al centro di questo medaglione c'è un'iscrizione, un cartiglio su fondo chiaro, con un'iscrizione. E questa iscrizione rende il nostro tappeto particolarmente importante nella storia dei tappeti, perché, come penso sappiate, non si sono conservati tantissimi documenti che riguardano la produzione, i nuovi luoghi di produzione, i nomi dei produttori dei tappeti. E' quindi abbastanza difficile riuscire a collocarli con certezza. E quando gli studiosi si sono trovati di fronte a elementi che potevano dare un'adattazione, chiaramente hanno utilizzato questi manufatti come dei punti di riferimento per costruire la cronologia. Quest'iscrizione recita Per le fatiche di Gias e il Dinjami, quest'opera rinomata fu condotta a si splendido compimento nell'anno 949 o 929. La lettura della cifra che sta al centro, il 4 o il 2, non è chiarissima, per cui c'è una certa efflessione nella data purtroppo. Alcuni studiosi propendono per un'adattazione anticipata, altri invece per un'adattazione successiva. Il 929 o 949 dell'Egira corrisponde al 1522-23 oppure al 1542-43. Quindi siamo nel secondo quarto del XVI secolo. Per quanto riguarda l'autore, e di questo ringrazio Taher Sabahi che si è introdotto all'inizio di questo collegamento, ci sono delle ipotesi e spero che lui nel continuare i suoi studi possa finalmente pubblicare un libro che ha già in lavorazione in cui ci parli anche di questo elemento. Egli dice che il nome Ghia Sel Din è un nome che si trova frequentemente nella storia persiana del XVI secolo. E ci sono testimonianze che parlano di un importante autore di miniature che aveva questo nome e altri personaggi. Quindi il nome era diffuso, però si sofferma su quest'ultimo termine, Jami, indicando probabilmente la città di provenienza di questo signore, che molto probabilmente era il responsabile, il proprietario della manifattura dove è stato tessuto questo tappeto. Si tratta di Jami nel Khorasan, che è nell'area nord-orientale della Persia. Ma torniamo al nostro tappeto e continuiamo la nostra osservazione. Dal medaglione centrale si sviluppano due pendenti, due elementi sul senso, diciamo, più lungo, nel senso più lungo del tappeto e sono costituiti da un cartiglio chiaro, vedete qui, con di nuovo rami con fiori e due uccelli all'estremità e due pesci che incrociano la loro coda al centro e poi un pendente nella parte più esterna che richiama le lampade che sono presenti nelle moschee. Quindi c'è un chiaro riferimento. Veniamo infine al campo centrale, campo centrale su fondo blu, che presenta scene di caccia, scene di caccia che danno appunto il titolo a questo tappeto. Su un fondo blu, ancora vivace, molto bello, come vedete, si sviluppa anche qui una rete di rami che si intrecciano con fiori di vario tipo e con una presenza di animali di diverse specie e all'interno di questo gruppo ci sono 28 cavalieri a cavallo e 4 fanti. Quindi si tratta di, dividendo il tappeto in quattro parti, di 7 cavalieri e un fante per ogni quarto di questo campo centrale e andiamo a vederli un po' nel dettaglio. Vedete i dettagli di questi fiori, come sono stati realizzati, addirittura creando un bordino scuro di rifinitura verso l'esterno di ogni campitura, utilizzando diversi colori e poi molto divertente, molto carino è anche la posizione di questo uccellino. Spesso ci sono questi fiori, questi uccelli che si nascondono quasi dietro ai fiori. Vedete qui un altro esempio di fiore, quindi peonie, fior di lotto, margheritine, rosette, i fiori che si ritrovano nei giandini dei palazzi persiani ancora adesso. Ma veniamo a analizzare i nostri cavalieri. Tutti i cavalli sono in movimento e tutti i cavalieri sono anch'essi realizzati in movimento e seguono in maniera coerente lo slancio del loro cavallo. In questo caso abbiamo un cavaliere che sta per scoccare una freccia che è ancorato alla sella del suo cavallo ma che è completamente girato verso l'esterno per colpire l'animale, quindi è aggrappato al cavallo che sta correndo, che sta galoppando e sta per scoccare questa freccia. Ma vediamo com'è la bardatura del cavallo. Tutti questi cavalli, lo noterete, hanno un sottosella e una sella con decorazioni diverse. A volte anche la corda del cavallo presenta delle decorazioni particolari. E il cavaliere indossa degli stivali, una giacca che in questo caso è abbottonata davanti, ha una cintura che gli cinge il fianco, la vita, che è fatta da questi elementi floreali e poi indossa il turbante con il tipico pennacchio âge della cultura persiana. Poi vi faccio notare anche le espressioni di questi cavalieri, sono una diversa dall'altra. A volte le sopracciglia sono più rimarcate, addirittura c'è un personaggio che ha i bassi, quindi sono fortemente connotati. Immaginate una dimensione come quella che abbiamo descritto prima, 6 metri e 80 per 3 metri e mezzo. Quanti dettagli e quanti nodi per descrivere ciascuno di questi dettagli. Vi faccio notare anche lo stile di realizzazione. Anche qui come dei fiori, vedete, ci sono questi profili delle campiture, delle parti decorate che sono sempre contornati da questo filo più scuro che fa emergere maggiormente la decorazione. E poi andiamo avanti, ne vediamo un altro. Anche questo cavaliere sta scoccando un arco, vedete che qua le sopracciglie sono molto più rimarcate, ha una veste molto simile a quella del cavaliere che abbiamo appena visto, ma con colori diversi. Poi ovviamente ha la faretta, però hanno anche una spada, un coltello, sono armati con diverse armi. E vediamo questo, vedete, questo è i baffi e sta coltellando questo cervo con una spada, mentre il suo arco è riposto nell'apposito contenitore. Qui vediamo anche la custodia della sua spada. Anche qui vedete il turbante con il pennacchio. Ce ne sono 28, sono speculari, però vi assicuro che guardarli così da vicino è davvero straordinario. Guardate in questo caso il cavaliere è quasi sdraiato sul cavallo, è molto ancorato sulle sue staffe, sulle quali sta facendo proprio la forza per tenersi in equilibrio. Il cavallo sta galoppando e vedete anche qui la decorazione sorprendente del sottosella. E poi veniamo ai fan, i fanci sono quattro, non sono a cavallo, quindi probabilmente sono dei servitori, non hanno il turbante e non hanno nemmeno gli stessi calzari, quindi anche l'abbigliamento sta a indicare il tipo di classe sociale alla quale i vari personaggi appartenevano. In questo caso forse sta uccidendo un orso o un animale del genere, ma vediamo gli altri animali, vedete, qui abbiamo degli asini, abbiamo un cerbiatto, poi ci sono le proti, gazzelle, gli uccelli che abbiamo visto prima, quindi vedete, è ricchissimo di dettagli, ci si perde a guardare questo tappeto. La caccia, la caccia è un tema che era molto caro al Gishan, in realtà l'attività della caccia era molto cara anche ai sovrani e agli aristocratici europei, è un'attività che svolgevano tutte le classi più elevate in tutto il mondo. E quindi è un tema che viene sviluppato dagli artisti in diverse situazioni, in diversi generi, in questo caso abbiamo un disegno, poi abbiamo anche moltissime miniature che raffigurano scene di caccia, vedete, tanti personaggi che stanno o assistendo o addirittura compiendo un'impresa con animali di diverso tipo, in questo caso è un leone. E cacciare, questo è molto importante, non era soltanto un passatempo per questi persiani, ma era un vero e proprio esercizio che serviva a temprare il fisico e gli animi, perché rappresentava il più idoneo addestramento per la guerra prima di tutto, ovviamente. Ma la caccia aveva anche un valore simbolico, rappresentava la lotta tra i vizi e le vertù, tra il bene e il male, tra la razionalità e l'istinto, e quindi è un tema che viene molto sviluppato, non soltanto nella cultura persiana. E veniamo alla parte più periferica del tappeto, la bordura. La bordura è un elemento altrettanto importante. La bordura è come se fosse il recinto, l'elemento di divisione tra la dimensione del tappeto e la dimensione esterna, quella terrena. Questa bordura è costituita da diversi elementi, una fascia centrale più ampia e poi delle cornici più piccole verso l'interno del tappeto e verso l'esterno. La decorazione è sempre fitomorfa e zoomorfa, è costituita da una, la composizione è proprio costituita da una serie di palmette, e così si chiamano questi elementi, che si alternano in colori diversi, che racchiudono all'interno una peonia e che sono intrecciate da due nastri di azzurro e di blu che corrono intorno e si intrecciano tra di loro. Il, dicevo, la bordura segna il passaggio, la dimensione del tappeto. Il tappeto ha un valore simbolico molto importante nella cultura persiana. Il tappeto in qualche modo è la casa. Il tappeto, pensate, per le persone di religione islamica, è il luogo della preghiera, quindi è il luogo che separa il fedele dalla realtà terrena e lo porta verso una realtà superiore, una realtà spirituale. Il tappeto è il caso, ad esempio, del nostro meraviglioso tappeto delle tigri, che raffigura un parco, un giardino. Il tappeto può anche essere la rappresentazione del giardino del paradiso e quindi per entrarci e per uscirci bisogna comunque passare un cancello, un punto, attraversare un punto di passaggio e questa è veramente la funzione magica della bordura del tappeto. I tappeti quindi erano, sono tornata indietro, scusate, i tappeti dunque erano molto importanti e sono ancora molto importanti per la cultura persiana, ma erano molto importanti anche per la cultura occidentale. Nel Rinascimento ci vengono in mente tantissimi esempi di dipinti in cui vengono raffigurati soprattutto personaggi sacri nei quali compaiono dei tappeti e i tappeti sono trattati come oggetti di grande preziosità e di grande pregio. Il tappeto è posto su una balaustra, come in questo caso. Questo è un particolare dell'inunciazione di Ascoli di Carlo Crivelli, che è conservato a National Gallery di Londra. Sono posti sul davanzale dove magari la Madonna appoggia il bambino, sono sotto il trono, sotto i piedi della Madonna in trono, sono su un tavolo, quindi sono sempre utilizzati come elementi di grande preziosità e che erano talmente presenti nella nostra cultura occidentale che addirittura alcune tipologie di tappeto hanno anche preso il nome degli artisti che li hanno riprodotti. Questo pianeta di tappeto è il tappeto detto tappeto Crivelli. Per restare solo in Italia abbiamo anche il tappeto Lotto, il tappeto caucasico, che vediamo in questo ritratto di coniugi che si conserva al Museo Statale dell'Hermitage a San Pietroburgo. Vedete, è riprodotto fedelmente perché circolavano i tappeti. c'erano e gli artisti li potevano copiare tranquillamente. Andiamo a parlare adesso della provenienza del nostro tappeto. Come vi dicevo all'inizio, la storia del tappeto non è ancora del tutto ricostruita. Sappiamo che è stato prodotto in Persia, sappiamo che è stato prodotto tra il 1520 e il 1543, sappiamo che è stato prodotto a Tabriz, ma per chi è stato prodotto? Quando è arrivato in Europa? Questo tappeto è vero, è un po' di pezzoli da 100 anni, ma prima dove era? Alcune cose si sapevano ed è soltanto da pochissimi mesi, grazie a Marco Spallanzani e a Maria Taboga, che saluto, che si è fatta luce, si è fatta chiarezza, almeno su una parte di storia di questo tappeto, ovvero da quando è arrivato in Europa. dicevo non si sa per quale ragione, non si sa se è stato commissionato dagli italiani o se sia, come spesso è successo, un dono diplomatico che è giunto in Europa appena dopo la sua produzione e poi lì è stato conservato. Questo tappeto ha una particolarità che ha fatto sì che ci fossero, che ci siano state delle discussioni tra studiosi. Il tappeto non è un tappeto prezioso per quel che riguarda i materiali che lo compongono. Come vi dicevo, prevalentemente è composto da cotone e da lana e soltanto le frange erano in seta e questo era un espediente che a volte veniva applicato per realizzare dei manufatti che fossero meno costosi ma che dessero comunque l'immagine di essere oggetti preziosi e quindi avevano le frange, la parte finale, terminale, insomma, in materiale più prezioso e poi il resto invece era in lana e in cotone. Questa particolarità, questa mancanza di seta che invece è molto presente nel tappeto delle tigri di cui vi ho parlato prima, sempre di produzione safavide, ha fatto dire ad alcune persone, ad alcuni studiosi tra questi Thompson che non si tratta di un tappeto d'ashah ma di un tappeto di seconda importanza. Molti altri studiosi, tra cui Taher Sabai, sostengono invece che questo si tratti a tutti gli effetti di un tappeto d'ashah proprio anche per le raffigurazioni della caccia e per tutti i significati che queste raffigurazioni possono contenere. Ma veniamo a raccontarvi per la prima volta, per chi non avesse già letto questo libro, qual è la dicenda che riguarda questo tappeto. Bene, il tappeto che, come vi dicevo, è stato prodotto nel secondo quarto del 1500, nel 1553 appare negli inventari dei Medici di Palazzo Vecchio. Siamo sotto il governo di Cosimo I dei Medici e il tappeto appunto è a Palazzo Vecchio ed è identificato come un tappeto persiano di lana, eccetera. Scusate. Poi cosa succede? Questo tappeto viene citato in altri inventari, nel 1560, 70, 87, quelli che ho raccolto in questo elenco e cambia attribuzione, viene definito paierino, ma le dimensioni e la descrizione e il richiamo ai vecchi numeri di inventario ci conferma che si parla esattamente di quell'oggetto. È soltanto nel 1691 che si ritorna a parlare di tappeto simile di Persia. La notizia successiva riguarda, certa, anche questa è emersa pochissimi anni fa e quasi casualmente, è questo dipinto che è conservato dal Museo Civico di Pistoia che ritrae il Gran Duca Ferdinando II di Lorena, che si fa ritrarre nel suo studio e che sceglie, questo ritratto ufficiale, una serie di oggetti che lo identifichino e tra questi sceglie il tappeto di caccia che vedete ai suoi piedi. C'è una nota curiosa che dice che l'artista Nicola Monti, un artista pistoiese, si sia fatto dare dal maggiordomo del Gran Duca a tutti gli oggetti che il Gran Duca aveva deciso di far raffigurare per copiarli nella maniera più fedele possibile. Qualche anno fa il curatore del Museo Civico di Pistoia ha chiesto ad Alberto Boralevi, uno specialista, grande conoscitore di tappeti e che conosce benissimo anche il tappeto di caccia, gli chiede informazioni sul tappeto di questo raffigurato in questo dipinto e Alberto Boralevi riconosce immediatamente il tappeto di caccia e quindi nel giro di pochissimo tempo circola la notizia e a noi manda ovviamente le fotografie e le indicazioni di questa scoperta e di questo dipinto. Vedete che il nostro medaglione centrale, rosso, con i vari animali che sono raffigurati, non è invece raffigurata in maniera dettagliata tutta la parte, diciamo la rete di vegetali, però si riconosce la forma del lobo ad esempio del nostro medaglione e poi si riconosce anche la palmetta e la nostra bordura, quindi inequivocabilmente si tratta del tappeto di caccia e quindi già eravamo sulla traccia di questa proprietà dei Lorena. In realtà agli inizi del Novecento erano state avanzate due ipotesi, da un lato che il tappeto potesse essere, che arrivasse da Palazzo Pitti e quindi che fosse legato ai Lorena e dall'altro che invece il tappeto si trovasse al Quirinale che fosse di proprietà dei Papi e lì se fossero trovati Savoia al loro arrivo. In realtà questo dipinto già ci dava delle indicazioni e le ricerche d'archivio ovviamente ci hanno confermato e dato anche delle informazioni che ci fanno andare molto più indietro nel tempo. E poi cosa succede? che il dipinto, scusate, il tappeto in un inventario del 1829 appare a Palazzo Pitti in una stanza, un deposito nel quale erano conservati molti manufatti tessili e tra questi una cinquantina di tappeti. Nel luglio del 38 avviene un primo intervento distruttivo, non conservativo sul tappeto nel senso che c'è un ordine che viene fatto alla ditta Brugnori e Frangini di ridurre il tappeto di dimensioni molto probabilmente si decide di collocare il tappeto in una certa stanza in una certa sala che è di dimensioni inferiori rispetto a quelle del tappeto e quindi si chiede di ridurre la dimensione del tappeto e quindi quello che viene fatto è nel 38 questo tappeto giunge lo troviamo negli inventari della Petraia la Petraia è una villa medicea che si trova in località Castello a Firenze e che i Lorena avevano appunto utilizzato e probabilmente avevano deciso di riavedare o modernare e quindi di portare questo questo tappeto che viene ancora una volta detto alla Cairina che è lungo braccia 10 e due terzi e largo cinque braccia e mezzo a fondo rosso con fiori e formelle in più colori tutto fuderato di tela e che arriva alla Petraia quindi nella questa ricerca che è stata svolta dai nostri amici studiosi hanno utilizzato una serie di elementi come veniva chiamato i materiali che lo costituivano le dimensioni che fino a un certo punto sono in braccia poi diventano ovviamente passano in metri ma non finisce lì prima di arrivare a Poldi Pezzoni altra storia e altri viaggi per il nostro tappeto il tappeto è negli inventari dei Lorena e poi passa negli inventari dei Savoia nel momento in cui i beni delle precedenti case regnanti passano alla Corona e addirittura la Villa Petraia viene scelta dalla moglie di Vittoria ma la seconda moglie di Vittorio Emanuele II come sua residenza abituale quindi il tappeto evidentemente resta lì e viene utilizzato per diverso tempo nel luglio dell'83 le cose evidentemente cambiano e giunge un ordine al guardarobiere Camillo Davico di spedire dalla Petraia al Quirinale il tappeto di caccia che questa volta viene chiamato la Turca quindi questo tappeto viene richiamato a Roma viene richiamato a Roma ed è stata trovata la bolletta di spedizione di questo tappeto da Firenze a Roma che lo dettaglia lo descrive minuziosamente ma soprattutto c'è una cosa molto interessante qui nella parte bassa oltre al suddetto tappeto vennero spediti 22 pezzi del tappeto stesso in varie dimensioni e altre due strisce vuol dire che con il tappeto vengono spediti anche i vari pezzi che erano stati tagliati staccati o tagliati per la riduzione e quindi tutto il pacchetto viene spedito a Roma e a Roma giunge nel 83 nell'89 non abbiamo altre notizie nell'89 compare questo telegramma telegramma del marchese di Villa Marina in cui si parla di spedire a Monza il tappeto proveniente dalla Petraia restaurato dal vecchio Gentilini quindi si dice che il tappeto nel frattempo tra l'83 e l'89 è stato sottoposto a un restauro e vediamo cosa è successo abbiamo due grafici che ci permettono di capire un pochino di più tutte queste linee che spero vediate colorate sono tagli lacerazioni o addirittura parti mancanti vedete parti lise ma soprattutto tante parti mancanti ad esempio questa e questa che poi vi mostrerò dopo in dettaglio questa parte è mancante questa parte totalmente mancante e quest'altra parte della bordura e poi piccoli dettagli in quest'altro grafico si vedono tutte le parti mancanti compresa questa che è in colore diverso ma di cui vi parlerò più avanti quindi il tappeto era stato davvero insomma trattato male lacerato modificato in tutti questi anni e vedete ora vi faccio vedere il particolare vedete questo queste parti queste due parti triangolari che ben si vedevano anche in questo grafico sono le parti rifatte dal Gentilini Gentilini era stato direttore della manifattura degli arazzi del del Quirinale e possedeva anche una una ditta personale in cui eseguiva questi lavori era una razziere quindi specialista in una tecnica completamente diversa da quella del tappeto sempre di tessitura si tratta ma è un telaio ma si tratta di telai diversi e poi soprattutto il tappeto non è solo tessuto ma è anche annodato che è quello che il nodo tagliato è quello che dà l'effetto vellutato tipico della superficie dei tappeti che la razza non ha e questo Gentilini non aveva idea di come si potesse riprodurre un tappeto e quindi ha realizzato tutte le parti mancanti imitando perfettamente il colore e copiando o comunque in qualche modo evocando anche gli elementi decorativi con una tecnica diversa una tessitura semplice con degli elementi delle aggiunte di ricamo per certi particolari quindi è una tessitura completamente diversa mi soffermo su questo particolare per farvi vedere come le parti che sono state integrate nel nell'ottocento alla fine dell'ottocento si siano sbiadite nel passare del tempo sicuramente quando il tappeto è stato restituito ai Savoia presentava i colori brillanti esattamente identici a quelli originali poi con il tempo questo si è perso andiamo avanti il tappeto doveva andare a Monza nell'89 ma non parte parte invece nel 95 e nell'ottobre del 95 viene lo troviamo citato nell'inventario dei mobili di dotazione della corona di Monza con descrizione un tappeto o meglio razzo persiano a fondo turchino e cremisi eccetera eccetera la cosa interessante è quello che è stato trovato sul nuovo inventario dei Savoia che è stato stilato tra il 1911 e 1924 in cui si sintetizza un po' la storia che io vi ho illustrato fino adesso un tappeto persiano antico valutato 20.000 lire e nella nota si dice questo bellissimo tappeto era stato nei tempi andati tagliato a pezzi e si trovava disperso nei vari palazzi reali il compianto re Umberto fece rimettere insieme e riparare dagli arazieri del Vaticano un oggetto di tanto pregio nel quale si dilettava a narrare in realtà pare che chi abbia voluto e seguito insomma il restauro di questo tappeto fosse la regina Margherita però nella nota si parla di re Umberto e ne fece tradurre all'illustrissimo professor grazie a Dio Ascoli l'iscrizione persiana che suona così e vabbè l'abbiamo visto prima quindi il tappeto arriva a Monza e lì viene esibito in quanto residenza ufficiale residenza della della Casa Savoia dopo la prima guerra mondiale le cose cambiano gli orientamenti politici cambiano e il 3 ottobre del 1919 re Vittorio Emanuele III firma un regio decreto con il titolo modificazioni alla dotazione della corona e con questo decreto viene ridotto l'emolumento annuo del re da 14 milioni 250 mila a 11 milioni 250 mila e soprattutto si retrocedono al demanio alcuni dei beni immobili della corona e una parte dei quali vanno al Ministero della Pubblica Istruzione e una parte all'Opera Nazionale dei Combattenti da persona che lavora in un museo e trattando di un oggetto museale questo documento questo decreto ha un significato particolare che voglio sottoporre alla vostra attenzione nel decreto si con il decreto si istituisce anche il sottosegretariato per le antichità e le belle arti è il l'avo del Ministero dei beni culturali allora tutti i beni culturali patrimoni insomma le belle arti e le antichità afferivano al Ministero dell'Istruzione Pubblica all'interno del quale hanno deciso appunto nel 19 di istituire questo sottosegretariato che si doveva occupare di questi beni che dovevano già nella loro intenzione avere una destinazione museale o comunque destinazione culturale a beneficio pubblico naturalmente e anche tutti i beni conservati all'interno di questi edifici da questi c'è la Villa Reale di Monza Palazzo Reale di Napoli Palazzo Pitti Palazzo Ducale di Venezia tutti questi importanti palazzi che erano i palazzi reali dei vecchi stati italiani tutti i beni dovevano essere destinati cioè parte di questi beni contenuti negli edifici dovevano essere destinati anche a sedi museali perché bisognava arricchire il patrimonio che veniva esposto a scopo didattico nei musei nazionali e questo è il motivo per cui il nostro tappeto di caccia viene destinato alla Pinacoteca di Brera perché il museo statale per eccellenza in Lombardia era la Pinacoteca di Brera e quindi il tappeto viene destinato a Milano a Brera ma Brera è una Pinacoteca ha una collezione straordinaria di dipinti e il superintendente di allora Ettore Modigliani ritiene incoerente tenere il tappeto a Brera e pensa immediatamente di metterlo in deposito di darlo in deposito all'unico museo milanese che avesse una collezione di tappeti ovvero il museo Pol di Pezzoni ecco come questo tappeto che è di proprietà dello Stato arriva al Pol di Pezzoni nel 1923 quindi 98 anni fa e il museo Pol di Pezzoni non tanto in cambio ma insomma perché aveva delle esigenze specifiche in questi anni nel 22 esattamente cede in deposito temporaneo alla Pinacoteca di Brera questo politico che possiamo vedere nelle sale questo politico che recentemente è stato attribuito da Giovanni Angelo D'Antonio un pittore attivo nella prima età del 400 a Camerino e che è di dimensioni abbastanza imponenti per le piccole sale del museo Pol di Pezzoni quindi ritenevano che potesse essere maggiormente valorizzato nella Pinacoteca di Brera anche qui c'è una storia collezionistica curiosa interessante che vi sintetizzo in poche battute la tavola con la Madonna e il bambino in trono è stata acquistata da Gian Giacomo Pol di Pezzoli poi nel 1910 nel 1914 in due momenti diversi da due diciamo venditori diversi erano state acquistate le tavole della parte bassa e poi le tavole invece del registro superiore questa organizzazione in un politico è stata suggerita da Bernard Berenson inizialmente si credeva facessero parte dello stesso politico tutte le tavole è stata realizzata poi con il procedere degli studi si è scoperto che di fatto le tavole del registro superiore e inferiore appartenevano a due politici a due palle d'altare completamente diverse quindi da 1923 il Pol di Pezzoli si occupa di questo meraviglioso tappeto da prima viene esposto nel Salone Dorato al primo piano tra i capolavori lo vediamo in una foto del 1951 ovvero dell'allestimento che è stato realizzato da Ferdinando Reggiori seguito dalla soprintendente alle gallerie Fernanda Wittgens con una ricostruzione appunto del salone e il posizionamento del tappeto al centro di questa sala vi faccio notare che tutto il pavimento che è stato rifatto ha una cornice che incornicia perfettamente il tappeto di caccia e quindi era qui doveva essere posizionato poi abbiamo un'altra foto successiva degli anni 70 che vede appunto un rinnovamento ovviamente dell'allestimento di tutta la sala ma anche dell'allestimento del tappeto che viene posizionato su una pedana e quindi liberato da quel cordone distanziatore che era stato posizionato subito dopo la guerra negli anni 90 il tappeto viene sottoposto a un intervento di foderatura un intervento conservativo una foderatura che è l'applicazione di una tela di supporto sul retro che permette di rafforzarlo nella sua struttura e viene costruita appositamente una grande teca che posizionata appunto nel salone dell'affresco al piano terreno del museo dotata di una di una pedana leggermente inclinata che è questa con rivestita di materiale di tessuto non acido quindi adeguato alla conservazione del tappeto e il tappeto viene collocato su questa parete vedete lo stanno srotolando ecco potete immaginare tutte le volte che si deve muovere questo tappeto tra battello parecchie persone perché opera nonostante sia sana e robusta comunque 500 anni e le fibre hanno 500 anni e quindi è un oggetto molto fragile che va maneggiato comunque con estrema cautela e quindi nel 93 il tappeto trova la sua collocazione attuale ma non è finita qui il museo come per tutte le opere che conserva che sono arrivate a superare le 6500 grazie alle ultime donazioni si occupa di conservare di studiare di esporre tutte queste azioni per ciascuna delle 6500 opere e il tappeto una volta sistemato nella sua grande vetrina non è rimasto a dormire nel senso che negli anni successivi è stata portata avanti un'azione di studio in collaborazione con il British Museum di Londra e con Asia Society Museum di New York e questi studi hanno portato alla realizzazione di una mostra internazionale che mostrava 150 pezzi quindi una mostra molto imponente e che ha avuto due sedi nel 2003 nella fine del 2003 inizio del 2004 a New York e nella primavera estate del 2004 al Museo Pol di Pizzoli e a Palazzo Reale perché queste oltre 100 opere al Museo Pol di Pizzoli non avremmo potuto ospitarle al Museo Pol di Pizzoli chi la faceva da padrone insomma il protagonista della della mostra era il tappeto di caccia non esposto nella sua vetrina ma eccezionalmente esposto nuovamente in orizzontale una grande pedana nella sua sala nella sala della fresco e il titolo della mostra era caccia in paradiso proprio dal dalla raffigurazione del campo del nostro tappeto e lo studio era sull'arte di corte nella persa del 500 e lo scopo da parte della direzione del museo era quello di approfondire la conoscenza e lo studio sulla cultura sulla civiltà che straordinaria che ha prodotto questo tappeto e metterlo in relazione con le opere presenti in musei di tutto il mondo perché abbiamo avuto prestiti davvero da tutto il mondo anche dall'Iran noi dall'Iran gli americani no ovviamente però abbia ragione ed è stata davvero una mostra di grande successo che ha restituito tantissima conoscenza su questo tappeto ma soprattutto restituito un frammento mancante che voi vedete appeso sulla parete alla nostra sinistra che vedete qua sulla destra un frammento della bordura in realtà questo frammento è anche un altro era stato individuato sul mercato antiquariale almeno 30 anni fa o forse anche di più e questo antiquario John Eschenazzi è riuscito a farlo acquistare da un suo cliente collezionista di fiducia e passando di mano in mano insomma è riuscito a farlo acquistare da un collezionista straordinario di arte islamica Alessandro Bruschettini che in occasione della mostra ha prestato il frammento e che nel 2014 ha deciso formalmente di donarlo al Museo Pol di Pezzoli quindi vedete un ulteriore tassello di questa storia faccio notare che la donazione è stata fatta al museo quindi il numero di inventario è il numero di inventario del Pol di Pezzoli mentre capite come vi dicevo di proprietà dello Stato una certa incongruenza dal punto di vista della della proprietà dell'opera però Alessandro Bruschettini ha voluto anche mettere una clausola che il frammento debba sempre seguire il suo tappeto ma la storia non finisce qui nel senso che questo frammento ora vi faccio vedere di nuovo il grafico che vi avevo fatto vedere prima e vi spiegate anche perché questa parte è di colore colorata perché effettivamente è corrispondere al nostro al nostro frammento ritrovato bene arriva questo frammento al museo e si deve decidere cosa fare e questa è una parte che riguarda il diciamo backstage quello che succede una delle tante cose che succedono all'interno dei musei oggi restauro significa conservazione conservazione significa che se noi ci troviamo di fronte a un tappeto che negli anni 80 dell'ottocento ha avuto un restauro con delle integrazioni con una tecnica abbastanza cioè completamente diversa da quella originaria dobbiamo conservarlo perché questo restauro anche se ha perso la brillantezza dei colori è parte della storia del tappeto è una parte che io vi ho raccontato questa sera non è solo un racconto è proprio parte integrante del tappeto e quindi si poneva la questione cosa facciamo del frammento lo riposizioniamo lo rinnestiamo sul tappeto si potrà fare chi lo sa oppure siccome dobbiamo rispettare questo concetto di conservazione della storia del tappeto eccetera lo esponiamo a lato come era successo nella mostra su un pannello spiegando tutto tutta la storia ai visitatori e era un dilemma e quindi la nostra direttrice Annalisa Zanni che saluto di so che è presente ha pensato di condividere questa decisione di chiamare di invitare in una giornata di chiusura al pubblico in cui si poteva anche aprire la grande vetrina e quindi guardare il tappeto da vicino e avvicinare al tappeto il suo il suo frammento di invitare esperti restauratori il donatore la membri della soprintendenza quindi esperti di di cultura islamica universitari insomma professori universitari e c'è stata questa questa riunione nella quale si è discusso cosa fare del tappeto e c'era appunto la parte il gruppo più conservatore più legato alla teoria del restauro della conservazione che riteneva fosse necessario esporlo separato a un certo punto si è deciso di vedere di posizionare questo questo frammento sul tappeto e vedere l'effetto che la cosa avrebbe fatto quindi era appunto vi dico stata aperta la vetrina che è un procedimento costanza lungo montato tra battello le restauratigi sono salite hanno cucito velocemente il frammento al tappeto e nel momento in cui il tappeto cioè il frammento è stato tolto tra battelle quindi ogni diciamo ostacolo e si è visto il tappeto è stato il tappeto stesso a dire a dare la soluzione il frammento deve stare qui abbiamo improvvisamente riportato i colori vedete qui i colori erano molto diversi il disegno non era assolutamente riconoscibile si vedeva anche un occhio distratto avrebbe notato il passaggio la differenza l'occhio distratto qua non si accorge del che una parte sormonta l'altra l'occhio corre davvero sulla decorazione ma soprattutto c'è un'altra cosa dopo di che mi fermo perché il tempo sta anche scadendo è che se guardate bene non solo il frammento restituito l'acromia ma restituito proprio il disegno guardate la palmetta angolare nella versione diciamo araziere del restauratore ottocentesco non è completa la palmetta angolare del tappeto è invece una vera palmetta completa che angolare pensata e disegnata per avere questa posizione e questa forma cos'è successo? mancavano queste due parti proprio le due parti degli angoli della testata di inizio tessitura del tappeto la testata inizio tessitura è quella che riproduce in maniera assolutamente perfetta il disegno del cartone poi il tappeto soprattutto se è di queste dimensioni e quindi richiede l'intervento di più persone nella tessitura e richiede anche tantissimo tempo per la tessitura quindi un passaggio di stagioni e quindi una modifica delle situazioni microclimatiche con aumento di aumento diminuzione di umidità che modifica la dimensione delle fibre e quindi modifica anche l'ampiezza del del tappeto quando si arriva in fondo con queste modifiche dovute a alla azione umana perché uno può tirare più o meno i fili annodare più o meno in maniera serrata il tappeto difficilmente arriva nelle stesse dimensioni della testata di partenza e quindi il tessitore di tappeti che è abile cerca di risolvere con qualche scamotage la decorazione alla fine vedete non realizza una perfetta palmetta angolare ma una decorazione un po' sfalsata la razziere che doveva ricostruire queste due parti e non aveva idea di come si facesse un tappeto di che tipo di decorazione potesse avere un tappeto non aveva proprio idea ha copiato quello che si vedeva nella testata terminale e quindi ha riprodotto quello che abbiamo visto prima e questo vedete una palmetta completamente deformata e con questo ho concluso la mia presentazione e lascio la parola voi per eventuali domande grazie per l'attenzione